Oggi è un maledimento. Sì, è un maledimento. Noi, noi. Abbiamo fatto musica. Tante cose, come amici italiani, come Crotone italiani, così abbiamo fatto bene. Mi sono molto divertito per conoscere ragazzi italiani. Giocare insieme, parlare insieme, c'è l'amici di italiano, c'è l'amici, tanti amici, amici neri, amici italiani, tutti uguali. L'obiettivo di questo progetto era proprio quello di creare delle buone pratiche di accoglienza solidale tra i ragazzi di Crotone, gli studenti di Crotone e i migranti, i ragazzi degli SPRAR. Da subito i ragazzi, anche grazie ovviamente al nostro elemento principale, che era quello della musica, sono riusciti a interagire e a conoscersi, riuscendo anche ad abbattere tutte quelle barriere linguistiche molto difficili inizialmente. Questo progetto è stata la prima cosa bella che ho scoperto a Crotone da quando vivo qui. E ho capito che non c'è una differenza tra noi, ma avendo comunque tutti quasi la stessa età, abbiamo anche passioni in comune come la musica, il canto e il ballo. Ed è stato anche un modo per aprirci personalmente, dato che siamo ragazzi molto intraverse. Posso dire in inglese? È un'esperienza molto buona per me, perché mi ha aiutato a sapere molte persone, e mi ha aiutato il mio compagno su come vedere le persone almeno. Se si ha l'opportunità e il tempo, bisogna farle queste esperienze, finché non si raggiunge un grado di coscienza abbastanza alto da non doverle più fare. Poi c'è un territorio di emigrazione, quindi è stato difficile rintracciare i ragazzi tra i 16 e i 24 anni, perché purtroppo questa fascia di età qui non esiste, c'è la prassi, che una volta diplomati la gente va via per studio, per lavoro, per cercare nuove opportunità. E invece confrontandoci ci siamo resi conto che hanno tutti le stesse esigenze, c'è quello di voler rimanere su questo territorio, però nello stesso tempo per poter rimanere su questo territorio c'è la necessità di inventarselo il lavoro in questi territori, perché purtroppo abbiamo una disoccupazione altissima. La cosa più interessante è che attraverso la musica, attraverso il ballo, attraverso la creazione di una comunità, molti ragazzi hanno riscoperto, scoperto dei talenti che non pensavano di avere. Il fatto centrale è che delle persone diverse, con esperienze diverse, hanno la possibilità di confrontarsi e di eliminare le proprie barriere. Le hanno pescati in mare, come pesci. Su il dito di uno dei morti, prima che il pescatore lo ributtasse in mare, brillava un rubino rosso. Gliel'ha tolto? Solo quando ha visto l'anello, il pescatore ha avuto per la prima volta un pensiero, che il morto potesse avere dei parenti. Un abitato territorio, sia italiano, sia di passaggio, può attivarsi e diventare un cittadino che si può attraverso l'anello, sia di passaggio, sia di passaggio, sia di passaggio, sia di passaggio,